Si tratta proprio di un libro che spiega come utilizzare la propria mente per migliorare le proprie performance, le proprie prestazioni in qualunque ambito della propria vita, professionale, sportivo, personale, lavorativo. Prendiamo l'esempio dello sport, un atleta si allena fisicamente ma a volte può essere super allenato però se qualcosa non funziona nella sua mente possibilmente potrebbe riuscire a dare il massimo e il meglio delle proprie prestazioni così come professionalmente il vivere delle difficoltà a volte ci fa perdere la lucidità. Per fare un esempio prendiamo due ragazzi che hanno lo stesso percorso scolastico, si laureano insieme, fanno lo stesso master, entrambi si presentano ad un colloquio di lavoro, il primo arriva con le spalle basse, con la voce tremante, quindi con la paura di affrontare il selezionatore mentre il secondo pur avendo un curriculum identico affronta con maggiore serenità e maggiore disinvoltura il colloquio. Va da sé che alla fine del colloquio possibilmente il selezionatore sceglierà chi ha mostrato una migliore gestione delle emozioni. Ci sono tantissimi corsi, noi facciamo ovviamente di questi corsi, tra l'altro in questo momento durante la promozione del libro stiamo offrendo la possibilità di partecipare gratuitamente a un workshop.